Sono sveglio, soffitto bianco, la sveglia, le sette e ventotto. Mancano due minuti prima che suoni, non riesco a muovermi, sono come paralizzato, non posso neanche parlare, ma non devo farmi prendere dal panico, altre volte mi è successo, devo stare calmo e aspettare, aspettare che questo blocco passi, certe volte è bello guardare questo soffitto, talvolta attraverso strani riflessi, vedi i colori che vengono dalla strada, riesco a capire il tipo di automobili, vedo le persone muoversi, sembrano dei fantasmi, sembra una magia, un'inutile magia, certe volte non potermi muovere non mi dà angoscia, anzi, spesso non vorrei più alzarmi, vorrei stare qui disteso, immobile, è bello quando il tempo passa e non te ne accorgi e non te ne frega niente se passa, tra poco suonerà la sveglia e mi toglierà da questo torpore, finalmente potrò parlare e dire le mie stupidaggini, potrò parlare con persone più inutili di me, potrò muovermi e smettere di guardare questo cazzo di soffitto bianco, ecco, mancano pochi secondi. Grazie 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 Grazie